È finalmente arrivato quel periodo dell'anno in cui inizia l'attesa dei regali, si diffonde il tintinnio delle campanelle e il divertimento è nell'aria. Giocolandia ripropone il suo concorso natalizio, stavolta ancora più speciale. Visita il nostro parco insieme ai tuoi bambini tra 1 e 12 anni e divertiti con la tua famiglia. Ad ogni ingresso il bambino potrà spedire una letterina a Babbo Natale, richiedendo il dono che più desidera. Una letterina sarà sorteggiata e il fortunato vincitore riceverà il regalo dei suoi sogni il giorno di Natale. Più volte verrai al parco, più lettere riuscirai a mandare, il che aumenta la possibilità di vincita. Cosa aspetti? Non perdere quest'occasione e divertiti nell'area Baby, nell'area Gonfiabili e nell'area Playground. A Giocolandia ci sono inoltre una sala giochi e una pizzeria per soddisfare i desideri di grandi e piccini. Giocolandia, il tuo parco divertimenti dal 1999.